Allora, siamo sempre in allenamento a cridurno, mi comincia a essere tardi, la luce è inferiore ovviamente, il pesce tende ad alzarsi, ovviamente meno disturbato. Oggi usiamo un Airbus 08, colorazione T3 Distribution per l'Italia, lo vado a muovere sempre con la mia Dyslate Gaia Blitz 62 ml, con il nostro da 0,4-1, questo è uno spunno ovviamente che ha un movimento anche a bassissimo numero di giri, molto molto accentuato, quindi ci consenta di fare più movimenti, quindi proprio andremo a sediare con uno spunno del genere, ovviamente utilizzando questo tipo di spunna è importante ovviamente controllare anche la carata dello spunno, perché proprio per sfruttare il movimento dello spunno stesso l'attacco può avvenire proprio in quella fase. Allora, l'attacco a vuoto, lo facciamo riscendere. Troviamo un esempio del pesce a freddiamo e che si è alzato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lo proviamo a controllare proprio in verticale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.